Questa sera sono stati consegnati tre premi, tre premi ai migliori stand per Made in Steel, tre premi realizzati interamente da lei, tre alberi. Tre alberi, sì. Tre alberi perché è un po' un simbolo oggi l'albero, della memoria anche, perché io sono cresciuta in campagna quindi per me gli alberi erano una seconda casa e poi perché nel momento di oggi di pericolo per la nostra sopravvivenza, la sopravvivenza sana, gli alberi quelli che ci danno l'aria, ci proteggono. L'albero, la natura insieme all'acciaio perché poi alla fine lei crea queste opere con l'acciaio. Sì, per me l'acciaio corto e soprattutto è stata una cosa che mi ha aiutato moltissimo perché ha delle prerogative che il ferro non ha. Quindi io posso fare delle sculture grandi, metterle all'esterno, ma fatte in corto non si distruggono, mentre col ferro sarebbero, la ruggine li distruggerebbe. Quindi per me e per molti artisti che lavorano in ferro il corto è stato un grande aiuto. E il futuro come lo vede? Quali saranno le sue prossime creazioni? Guardi, se ne devo dire una cosa, al mio capolavoro devo ancora farlo, quindi sono in attesa. Grazie.